Musica Ospedale di Polla, l'unità operativa di neurologia con due medici in servizio, arrivano le rassicurazioni dal direttore, dottor Luigi Mandia, arriverà un sostituto. Padula, domenica 7 maggio, assemblea dei soci della BCC di Buonabitacolo, approvazione del bilancio 2016 e scelta del gruppo bancario. Regione Campania, approvata all'unanimità la prima legge contro il bullismo e il cyberbullismo. Sala Consilina, gestione teatro comunale, il consigliere di progetto Sala Giuseppe Colucci, affidamento della gestione, dubbio. Sport, basket, diesel tecnica vola verso la serie D, vittoria e primato solitario. Buonasera gentili telespettatori, ben ritrovati con l'appuntamento con l'informazione di Uno News. Apriamo occupandoci di sanità da ieri e in servizio presso l'unità operativa di neurologia, solo due medici a causa di un infortunio occorso ad uno dei tre medici in servizio. Una situazione che ha messo subito in allarme chi opera all'interno del presidio ospedaliero Luigi Curto con il dottor Pietro Greco, che nel ricordare come il reparto di neurologia sia anche un reparto di emergenza, ha anche ricordato come in caso di mancate soluzioni in merito al disagio venutosi a creare, si rischia la paralisi del servizio. Una eventualità che ha anche spinto il dottor Greco ad annunciare che in caso di mancati provvedimenti in merito è pronto ad incatenarsi davanti all'ingresso dell'ospedale Luigi Curto e a far sentire le proprie ragioni e le ragioni della struttura sanitaria che ormai da troppi mesi è costretta a fare i conti con una carenza di personale medico. Da qui arriva pronta la risposta del dottor Luigi Mandia, direttore dell'ospedale Luigi Curto di Polla che ha sottolineato come si è cercato da subito di trovare soluzioni in grado di sopperire all'assenza per malattia del medico neurologo. Ascoltiamo il direttore Mandia. Purtroppo c'è una dottoressa che è caduta mentre stava andando a lavorare in un altro ospedale. Ha avuto una frattura, anzi io colgo l'occasione per fargli i miei migliori auguri di guarigione pronta e perfetta. Ovviamente questo ci mette in difficoltà perché con due soli neurologi resta veramente difficile assicurare la prosecuzione delle attività. In ogni caso sono speranzoso perché questa cosa è già stata posta all'interesse della Direzione Generale che all'opera la Direzione Sanitaria di Salerno per cercare di recuperare un neurologo da inviare a Polla per poter attendere, ripeto, allo svolgimento delle attività in ambito neurologico. Vediamo un po', però ripeto, so che a Salerno già si stanno dando da fare perché è stato proprio il dottore Giordano in prima persona a cominciare ad occuparsi di questa cosa. È ovviamente necessario pure dire che per quello che riguarda il presidio di Polla alcuni giorni riusciamo a garantirli, nel senso che non è manco pensabile interrompere le attività. Vediamo un po' e vediamo che succede. Dottore, il rischio nel caso in cui non arrivi subito un neurologo quale potrebbe essere? Il rischio è che ci possa essere l'accorpamento con qualche altro reparto, ma di sospensione temporanea ovviamente, delle attività non se ne parla proprio. La neurologia resta, è indispensabile, poi si vedrà. Al momento però da Salerno si sta lavorando per trovare dei neurologi. E restiamo sulla sanità perché il direttore generale dell'Asl di Salerno, Antonio Giordano, ha reso noto questa mattina le nomine a direttori di distretto per 11 dei 13 distretti presenti nell'Asl di Salerno, che sono il distretto 60, non c'era inferiore la dottoressa Anna Castaldo, per il distretto 61 Angri Scafati, il dottor Roberto Giulio, distretto 62 Sarno, dottor Antonio Russo, distretto 63 Cava dei Tirreni, Costa Damalfi, Francesco Perrotta, distretto 64 Eboli, Clara Di Nicola, distretto 65 Battipaglia, Marilina Aloia, distretto 66 Salerno, Vincenzo Damato, distretto 67 Mercato San Severino, Rocco Basile, distretto 68 Gifoni Vallepiana, Pasquale Melillo, distretto 69 Capaccio, Roccadaspide, Giuseppina Arcaro e distretto 70 Vallo della Lucania, Agropoli, Francesco Giovanni Lombardo. Mancano le nomine per i distretti 71 Sapri Camerota e 72 Polla Sala Consilina, le cui funzioni di direzione sono state accorpate. Andiamo avanti, cambiamo argomento, occupiamoci di politica, parliamo delle primarie del PD, perché sono stati ufficializzati i nomi degli eletti all'Assemblea Nazionale del Partito Democratico dopo le primarie di domenica scorsa. 17 i nomi in tutta la provincia di Salerno, ma per quel che riguarda direttamente il Vallo di Diano confermate le due rappresentanze, oltre ad Angela Adalto che era candidata per la mozione Emiliano e che da subito si è conosciuta la sua elezione all'interno dell'Assemblea Nazionale, ora arrivano conferme anche per quanto riguarda l'elezione di Attilio Romano, sindaco di Casalbuono e presidente del GAL, anche lui eletto nell'ambito dell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico. Andiamo avanti, lasciamo la politica, andiamo a Padula a Buonabitacolo, dove i soci della BCC di Buonabitacolo si riuniranno presso l'hotel Certosa di Padula, domenica prossima 7 maggio per la consueta Assemblea dei Soci, un'assemblea speciale perché oltre a pronunciarsi sull'approvazione del bilancio 2016, i soci dovranno anche decidere sul gruppo bancario a cui la BCC di Buonabitacolo dovrà aderire. Vediamo. Domenica prossima 7 maggio, appuntamento importante per i soci della BCC di Buonabitacolo che saranno chiamati ad esprimere il loro parere sul bilancio 2016, ma ancora più importante e tema di questi ultimi mesi, la scelta del gruppo bancario a cui aderire in virtù dell'applicazione della riforma del credito cooperativo che dovrà essere applicata entro l'estate del 2018. Tutte le BCC in queste settimane, nell'ambito delle diverse assemblee dei soci annuali in corso di svolgimento, tra gli argomenti in discussione proposti all'approvazione dei soci, dovranno anche decidere a quale gruppo bancario aderire. Sono infatti due gruppi in costituzione, il gruppo ICREA e il gruppo Cassa Centrale Banca. Per ognuno dei due, la BCC di Buonabitacolo metterà a disposizione dei soci tutte le informative necessarie con la proposta dei vertici dell'Istituto di Credito Diretto d'Angelo De Luca. Domenica 7 maggio, presso l'hotel Certosa di Padula, le ore 16, i soci si riuniranno per un'assemblea speciale che rappresenterà un nuovo inizio per la BCC di Buonabitacolo verso un percorso di cambiamento del credito cooperativo. Saranno quattro gli argomenti in discussione che si apriranno con l'approvazione del bilancio 2016 per concludersi con la scelta del gruppo bancario. Una decisione su cui probabilmente i soci potrebbero essere nuovamente chiamati ad esprimersi in attesa dell'entrata in vigore della riforma. Un tema di grande rilevanza per il futuro del credito cooperativo che per anni è stato e lo è tuttora fonte di supporto ad imprese e famiglie che senza il sostegno degli uomini che operano all'interno di queste banche avrebbero dovuto fare i conti con problemi di difficile risoluzione. Il timore per il futuro delle BCC a seguito dei cambiamenti introdotti con la riforma è alto. In vista dell'assemblea arrivano in merito anche le rassicurazioni del presidente della BCC di Buonabitacolo l'avvocato Pasquale Gentile che nella sua lettera ai soci per invitarli all'assemblea ricorda anche come seppur norme europee e nazionali imporranno dei cambiamenti profondi nell'assetto operativo ed organizzativo del mondo delle BCC qualunque riforma, scrive il presidente Gentile, non cambierà mai le persone ed il rispetto reciproco alla base del successo della BCC di Buonabitacolo. Pasquale Gentile nella conclusione della sua lettera invita tutti i soci a partecipare ricordando come in occasione dell'appuntamento delle ore 16 presso l'hotel Certosa si dovranno fare scelte epocali che, scrive, incideranno profondamente sul futuro della nostra banca. Sarà una nuova rifondazione alla quale non si può mancare. Il sindaco del comune di Laurino è stato nominato nelle scorse settimane direttore facente funzione del Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni a seguito anche delle decisioni dei giudici del Tribunale di Vallo della Lucania che avevano dichiarato nullo l'atto del presidente dell'ente che aveva nominato Giovanni Ciao nel ruolo di facente funzione della direzione di direttore facente funzione una decisione ritenuta illegittima visto che per regolamento il ruolo del direttore facente funzione andava assegnato a chi al momento in cui è venuto a mancare il direttore ricopriva la carica di vice direttore ristabilita quindi la regolarità dei ruoli si inizia subito a lavorare su quanto accaduto sui rapporti con il presidente ma soprattutto sulle idee di sviluppo e di promozione del Parco e dello stesso comune di Laurino di cui è sindaco abbiamo ascoltato il direttore Romano Gregorio ascoltiamolo voglio dire che il presidente da subito ci siamo sintonizzati e abbiamo incominciato a lavorare insieme per cercare di portare avanti i tanti programmi che lui e l'intero consiglio direttivo hanno in mente e che hanno messo in campo ovviamente rispetto alla decisione che loro avevano assunto magari c'era stata un'errata interpretazione delle norme statutarie e regolamentarie c'è stata un po' come dire questa querelle che ha messo fine a questa interpretazione errata ma devo dire che il presidente dal canto suo immediatamente ha rivisto quella posizione ha fatto la nomina e da subito, ripeto, ci siamo messi al lavoro e spero che possiamo collaborando in modo sinergico portare avanti le tante cose di cui il nostro territorio ha bisogno Lei come sindaco di Laurino, oltre che direttore del Parco crede tanto in questo territorio lo ha dimostrato proprio con le numerose iniziative che ha portato avanti nel suo comune lei è convinto delle potenzialità? Sono arci convinto e credo che tutti insieme dobbiamo andare in questa direzione quella di far crescere il nostro territorio non come singoli campanili ma come un territorio unitario capace di offrire un'offerta al mondo intero dell'intero territorio del Parco Nazionale del Cilento Valeriano e degli Alburni in modo che possa rappresentare un valore aggiunto per tutti i potenziali fruitori che vogliono godere delle nostre bellezze naturalistiche e delle nostre specialità enogastronomiche In ultimo, si avvicina l'estate Laurino è impegnata ad attirare tanto turismo per altro che arriva quali sono le iniziative in programma? Noi come sempre facciamo il Festival del Jazz e tante altre iniziative quest'anno puntiamo molto a valorizzare ancora di più il nostro volo, il volo di Laurino che insieme alla monorotaia e a tutti i percorsi trekking che abbiamo attrezzato rappresentano oltre che alla passeggiata fluviale che a mio giudizio è una cosa spettacolare invito tutti ad effettuarla perché è davvero molto molto suggestiva insomma chi viene a Laurino non si annoia e potrà godere di tantissime bellezze Novità importante per la Regione Campania che ieri mattina ha approvato in Consiglio regionale all'unanimità la nuova e prima legge per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo Dalla Regione Campania arriva il sì unanime alla legge di contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo Ieri mattina il Consiglio regionale della Campania ha approvato all'unanimità il testo che nel suo interno oltre a ben individuare e spiegare le caratteristiche del fenomeno impone anche interventi diretti a tutela della dignità umana e individua anche iniziative finalizzate a sensibilizzare verso la lotta in contrasto del fenomeno Il testo prevede anche coinvolgimento di istituzioni private e pubbliche per la realizzazione di iniziative destinate non soltanto ai soggetti direttamente coinvolti dal triste fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ma anche al personale scolastico e agli educatori e operatori tutti In particolare si propone di realizzare attività di educazione tra pari per sensibilizzare alla cultura della cittadinanza digitale e consapevole quindi verso un uso corretto degli strumenti informatici e della rete E' una legge, spiega l'assessore regionale alla formazione alle pari opportunità Chiara Marciani che punta ad affrontare fenomeni delicatissimi come il bullismo e il cyberbullismo puntando a prevenire soprattutto le cause Stiamo già lavorando per avviare tutta una serie di iniziative e progetti che possano avere grande diffusione attraverso l'utilizzo di strumenti legati al mondo dei giovani come la rete attraverso cui affrontare temi importanti come la lotta all'omofobia e allo stalking Grande soddisfazione per l'approvazione della legge è stata espressa anche dall'Onorevole Maria Ricchiuti Esprimo grande soddisfazione scrive sulla sua pagina Facebook l'Onorevole Ricchiuti per l'approvazione della legge regionale Disposizioni per la prevenzione del contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella regione Campania Si tratta di un provvedimento atteso di cui ho seguito e coordinato i lavori in sottocommissione per affrontare un disagio sociale e culturale sempre più invasivo e delicato Mi auguro davvero, continua Ricchiuti che la legge licenziata all'unanimità possa raggiungere i genitori che soffrono per un figlio vittima o persecutore le vittime affinché non si sentano più sole gli educatori in senso lato per dare loro gli stimoli educativi a ricreare un codice etico Il teatro comunale di Sala Consiglia più che una grande opportunità di sviluppo e crescita artistica si sta rivelando sempre più pomo della discordia ad intervenire questa volta sul tema è il consigliere comunale di Progetto Sala Giuseppe Colucci che al di là della mancata concessione della struttura per la giornata del 25 aprile interviene nello specifico sull'assegnazione della gestione del teatro affidata all'associazione La Piccionaia una concessione che a parere di Colucci non sarebbe giunta nel rispetto della norma ma piuttosto in maniera troppo semplificata e a danno della collettività ascoltiamo Giuseppe Colucci Ho seguito gli sviluppi recenti della vicenda teatro in verità la questione già l'avevo posta nel consiglio comunale del 21 aprile mi fece portatore diciamo di una serie di osservazioni sulle modalità di gestione del teatro in occasione proprio dell'approvazione della discussione del bilancio di previsione per quanto riguarda la modalità di affidamento e già in quella sede ho eccepito che l'affidamento fatto all'associazione culturale l'associazione La Piccionaia non la vedevo corretta o quantomeno la vedevo con una metodologia completamente diversa rispetto a quella utilizzata per le associazioni culturali di sala tra l'altro l'altra era l'associazione i ragazzi di San Rocco perché mentre ad una alla Piccionaia veniva affidato a seguito di una semplice richiesta via mail del 2 febbraio il 5 febbraio successivamente si riuniva la giunta e deliberava l'affidamento della gestione della stagione teatrale prendendo atto della spesa di 59 mila euro tutto a carico dell'associazione stessa si metteva a disposizione la struttura senza nulla dovere senza alcuna cauzione senza alcun adempimento o formalità addirittura sulla delibera non viene nemmeno un numero di codice fiscale o partita IVA lì invece si chiede tutto l'applicazione del regolamento la rendicontazione delle spese volevo capire questa differenza di trattamento fu risposto che la Piccionaia gestiva direttamente e quindi non vi era costo per lenta addirittura l'aggiunta avrebbe dato 9 mila euro di contributo una cosa secondo me non è corretta perché un contributo allora si dà quando vi è l'obbligo di rendicontazione degli incassi e delle spese non si può così si può dare 9 mila 99 mila se uno vuole dare un contributo a titolo personale lo dà e basta non c'è bisogno di farlo transitare come un'elargizione dell'aggiunta perché tra l'altro non è stato preso atto nemmeno di un documento mentre invece all'associazione Ragazzi San Rocco e alle altre associazioni viene chiesto la rendicontazione delle spese voce per voce prima di allargire un contributo ho ritenuto fare osservare che la cosa non era corretta 10 tappe in tutta la provincia di Salerno sono state programmate da Udito Center per prevenire i disturbi dell'apparato uditivo con visite gratuite vediamo dal 4 al 30 maggio Udito Center effettuerà una campagna gratuita del controllo dell'udito in 10 città salernitane l'iniziativa è finalizzata alla prevenzione dei disturbi dell'apparato uditivo il controllo consentirà di conoscere immediatamente i risultati dei test e di ricevere dal personale specializzato consigli utili su come preservare la salute dell'udito l'11,7% della popolazione italiana soffre di problemi uditivi che coinvolgono due persone su tre oltre 65 anni di questi il 75% non porta una protesi acustica e in genere impiega tra i 5 e i 7 anni prima di accettare il problema e rivolgersi a uno specialista verificare le funzionalità dell'apparato uditivo è molto importante specialmente in età avanzata la diminuzione dell'udito sottolinea il dottor Mario Fraschettone responsabile del settore audioprotesi di Udito Center avviene gradualmente in molti casi però si interviene soltanto quando il problema è già grave da qui l'idea del centro di lanciare una campagna gratuita del controllo dell'udito in provincia di Salerno il tour partirà il 4 maggio da Giffoni-Valle Piana e si concluderà il 30 maggio a Campania passando per Castel San Giorgio Oliveto Citra Capaccio Scalo Pagani Battipaglia Monte Corvino Rovella Agropoli e Bellizzi tutte le informazioni sull'iniziativa e sui problemi legati all'apparato uditivo sono disponibili sul sito web di Udito Center e ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria restate con noi bentornati con la seconda parte del nostro Tg parliamo di turismo e occupiamoci soprattutto delle coste della Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano e Alburni lunedì prossimo 8 maggio saranno consegnate le attese saranno assegnate le bandiere blu le attesi vessilli che indicano la qualità del servizio e delle acque per le località balneari ancora un successo è previsto per la Campania con numerose bandiere blu che dovrebbero sventolare soprattutto sulle coste appunto del territorio del parco tra queste dovrebbe aggiungersi anche Sapri che lo scorso anno era stata esclusa inaspettatamente vediamo si avvicina l'atteso appuntamento con il riconoscimento delle bandiere blu alle località balneari che più rispettano criteri qualitativi per le acque e i servizi offerti il prossimo lunedì 8 maggio a Roma saranno consegnati gli ambiti vessilli che quest'estate sventoleranno sulle località a simboleggiare il superamento di tutte le valutazioni effettuate durante l'anno dagli enti competenti che a seguire hanno presentato le loro relazioni dalle quali la commissione della FEE hanno stabilito la concessione dei riconoscimenti un vessillo ambito soprattutto per chi fa del turismo la sua maggiore fonte di economia come per le coste del Parco Nazionale Cilento Vallodidiano e Alburni cresce quindi l'attese cresce anche l'ottimismo per un possibile raggiungimento del record delle bandiere blu per la regione Campania pare infatti che quest'anno dopo l'esclusione a sorpresa per la stagione 2016 a Sapri potrebbe tornare a sventolare la bandiera blu nonostante l'ufficialità non sia ancora arrivata e tutto potrebbe cambiare la Campania pare si candidi ad essere anche quest'anno tra le regioni più blu secondo indiscrezioni pare siano stati confermati i vessilli per tutte le località dello scorso anno e dopo l'esclusione a sorpresa di Sapri quest'anno invece potrebbe tornare tra le località premiate ancora una volta grazie alle coste del Parco Nazionale Cilento Vallodidiano e Alburni la Campania potrebbe quindi classificarsi tra le regioni più premiate di Italia come accaduto lo scorso anno il 2016 ha infatti portato alla regione ben 14 bandiere blu di cui 12 nell'area del parco e soltanto 2 Massa Lubrense e Anacapria a Napoli ma solo lunedì 8 si potranno conoscere i nomi delle località premiate era in programma ieri presso la Certosa di San Lorenzo a Padula il quarto incontro organizzato dall'Ordine degli Architetti presieduto da Maria Gabriella Alfano su il patrimonio degli architetti era in programma ieri presso la Certosa di San Lorenzo a Padula il quarto incontro organizzato dall'Ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Salerno insieme con la soprintendenza ai beni archeologici e paesaggistici in collaborazione con l'Associazione Identità Mediterranea tema dell'incontro il patrimonio degli architetti si tratta di una serie di appuntamenti che si stanno svolgendo in diverse zone della provincia di Salerno su strumenti e regole per le trasformazioni del territorio di valore paesaggistico della provincia di Salerno l'obiettivo è quello di ricostruire la centralità del lavoro dell'architetto in un territorio dove le tensioni di carattere culturale e paesaggistico sono più che evidenti in uno dei pochi posti al mondo che presenta ben due siti scritti nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO la costiera amalfitana e il parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni attualmente circa l'85% del territorio è sottoposto a tutela per questo motivo l'ordine degli architetti preseduto da Maria Gabriella Alfano ritiene importante la definizione di regole e indirizzi che scaturiscano dal confronto fattivo tra gli architetti che operano sul territorio con le esperienze culturali e disciplinari di cui sono portatori e gli organismi ai quali è demandata la valutazione dei progetti per l'espressione dei pareri come le commissioni locali per il paesaggio e la soprintendenza Restiamo a Padula la storia attraversa il Vallo di Diano la conferma è arrivata dagli studi e dalle ricerche realizzate da ormai quattro anni dal Lions Club Padula come Polla e Sala Consilina sono aree che sono state che sono attraversate da un'antica strada romana costruita nel 132 avanti Cristo e che collegava Roma all'Oriente la certezza dell'esistenza di questa antica strada mette quindi in evidenza come lungo questa arteria potrebbero esistere numerosi resti antichi e risalenti proprio al periodo storico avanti Cristo su cui fondare anche un itinerario turistico il progetto gli studi e le possibili finalità i possibili obiettivi sono stati esposti sabato scorso presso l'agriturismo La Fonte a Sala Consilina a Padula scusate a San Giovanni in Fonte nell'incontro promosso dall'Ions Club Sala Consilina a Padula presieduto da Walter Nicodemo ascoltiamo le interviste realizzate dal nostro Pietro Cusati Questa è un'iniziativa che risale ormai a ben quattro anni fa è stato prima costituito un gruppo di lavoro formati da studiosi delle università del CNR e nonché anche esponenti delle regioni e anche da soci Lions i quali hanno cominciato a proporre questo itinerario turistico e soprattutto un itinerario di valorizzazione di questa antica strada romana che è la via a bregio ad Capuam che da Capua conduceva verso Reggio Calabria una strada che è stata costruita nel 132 a.C. e che serviva a collegare Roma con l'Oriente in quanto attraverso la via Appia poi questa via si congiungeva a Capua a Roma stessa quindi era una via fondamentale per i romani un'alternativa alla via Appia per poter giungere all'Oriente attraverso Brindisi il nostro scopo è quello prima di tutto di individuare il percorso cosa che è stato fatto nel primo anno di studi successivamente di far lavorare i club quindi di trovare lungo questo percorso tutti quei beni materiali o immateriali che meritano di essere conosciuti e valorizzati per poter diventare una fonte di crescita e di sviluppo per i nostri territori non dimentichiamo che le origini la cultura sono un fatto essenziale e certamente fonte di sviluppo e di crescita quali sono gli itinerari che toccano il nostro Vallo di Diano Vallo di Diano siamo qui siamo a Padula ci sono tanti altri percorsi noi adesso durante quest'anno sociale stiamo puntando a individuare alcuni tratti per cui abbiamo siamo partiti dal territorio di Capua quindi dall'innesto delle due strade romane quindi poi siamo stati a Sarno siamo stati a Somma Vesuviana oggi siamo nel Vallo di Diano e procederemo ancora per poter poi giungere a Cosenza via via prima in Basilicata a Cosenza successivamente spingerci fino a Reggio Calabria è stata una stupenda iniziativa alla quale peraltro hanno partecipato ben 13 club di tutta la zona dalla Calabria alla Campania è veramente è stato un successo anche l'aver visto questo splendido battistero tutti quanti hanno accolto con grande stupore la presenza di un monumento di tale valore nelle nostre zone è l'auspicio per poter fare sempre di più per poter incrementare il nostro turismo che ha tutte le basi tutti i presupposti per poter sfondare diceva poco l'ex governo dice che la prossima tappa Basilicata e poi in Calabria sì ci sarà mi sembra Lago Negro la prossima e poi si scenderà in Calabria la tappa finale sarà a Nola il 20 giugno in occasione anche della festa dei Ceri che fanno a Nola sarà un bellissimo finale l'iniziativa è veramente di grande valore e ora passiamo allo sport contro Portici la diesel tecnica pallacanestro Trinità trova una larga vittoria e grazie alla contemporanea sconfitta del basket vola conquista la vetta solitaria del girone B la promozione in serie D è sempre più possibile per la diesel tecnica pallacanestro Trinità che lo scorso fine settimana è balzata in vetta solitaria alla classifica del girone B grazie al successo casalingo contro il Portici una vittoria rotonda per i ragazzi di Coccio Durante che al termine della contesa sorridono visto anche le buone notizie che arrivano da Cavo dei Tirreni dove i metelliani battono il basket vola consegnando il primato solitario alla compagine salese una vittoria larga e rotonda in 40 minuti dove la supremazia di Antonucci e Soci si è palesata sin dalla palla 2 un canestro avversario preso e appallate per usare un gergo calcistico suon di triple il finale 107 a 69 la testimonianza lampante della superiorità dei biancazzurri formazione salese che archivia la pratica già dopo il primo tempo che si chiude sul 61 a 25 una vittoria che dicevamo è importante per la diesel tecnica palacanestro Trinità che a 5 giornate dalla fine ha nelle proprie mani le sorti della stagione vincendo le ultime 4 gare in programma i biancazzurri infatti devono ancora osservare un turno di riposo non si dovrà guardare i risultati delle avversarie dirette dunque la diesel tecnica da qui a un mese sarà artefice del proprio destino un destino che potrebbe fruttare a festeggiare la promozione in Serie D che manca da tantissimo tempo e con lo sport termina il nostro TG io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata Grazie a tutti